Ciao, siamo Stefano e Silvia. Ci siamo sposati il 7 settembre 2019. Per ricordare questo giorno speciale abbiamo scelto Giulio Gennari. Perché l'abbiamo scelto? Perché ci hanno emozionato molto i suoi lavori che abbiamo visto alla Fiera degli Sposi. Sicuramente i suoi punti di forza sono la professionalità e la sua passione. In questo momento di quarantena, in questo periodo particolare, ci siamo comunque sentiti molto supportati dal suo staff. In collegamento e smart working siamo riusciti a concludere il nostro album di matrimonio e qualche giorno dopo abbiamo ricevuto anche questo bellissimo regalo con alcuni particolari del matrimonio, alcuni scatti del matrimonio che veramente ci hanno emozionato tantissimo. Non vediamo l'ora di tornare in studio e concludere i lavori con l'album e di vedere finalmente il film, il filmino del matrimonio. Grazie, grazie di questo bellissimo regalo. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao.